manuale veramente veramente bello l'uscita diciamo e o 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 ci sono tutte le spiegazioni come funziona orba sicuramente apprezzerà questo o 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 Grazie a tutti.